E oltre che con la mimica, scusami, fai la faccia dello stupore? Così. Si rappresenta con la parola UANAMO. Proviamo a dirla tutti insieme? UANAMO! Ah, ho detto lo stupore, non l'assegnazione. UANAMO, proviamo? UANAMO! UANAMO! Tutto inizia nel 1945, quando nell'ospedale Loreto Mare di Napoli succede una cosa inconsueta. Il dottore Eduardo Nicolardi, che lavora proprio in quell'ospedale, si accorge di un trambusso nel reparto maternità e attirato da grida e fastuone, incuriosito dalla stranezza della vicenda, decide di andare a controllare. Ed ecco la faccia e lo stupore del dottore che esclama UANAMO! E tutti iniziano a boccontare. E forse è successo qualcosa che la scienza non sa spiegare. O forse è successo attraverso uno sguardo, uno sguardo intenso che ha lasciato il segno. Invece poi c'è chi vuole diminuire questi fatti, no, questi fatti, sono rari, se ne vedono migliaia. Invece poi c'è chi vuole ragionare, spiegiamo, ragioniamo. Dove si teme nel grano? Il grano cresce. Ora, riesce o non riesce, ma se ha il pregrano è quello che esce, come dare torto. Invece poi c'è chi vuole stuzzicare. Una guardata, un'impressione. Ma vai a trovarlo. Adesso che stanno ha fatto il tiro buono. Il fatto è che quel bimbo è nero. Nero, nero, come te. Invece poi c'è chi vuole stuzzicare, c'è chi vuole stuzzicare, c'è chi vuole stuzzicare. invece poi c'è chi vuole stuzzicare. invece poi c'è chi vuole stuzzicare. Oh, come ne ecco un mare, che sta a fare, c' paid un cellular, oh sorry, perderà un uglian. E balla passato, che 483, e avemo l'arrivo sto sotto, abbatto in Tessonal. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.